Intanto prosegue la campagna elettorale anche sul fronte europee. Ieri a Bari è stata la volta di Lorenzo Cesa, in corsa come capolista al Sud, nella lista unica formata da Udc, Ncd e Popolari per l'Italia. Il nostro progetto vuole andare oltre le europee per costruire nel nostro peso una grande casa dei moderati, popolari non populisti, perché di populismo è morta l'Italia, quindi un partito alternativo alla sinistra, ma un partito della responsabilità, della concretezza, della serietà che è mancata negli ultimi anni.